Attrarre progressivo. Per i miei studi di biologia sono certa che se conosciamo le leggi che presiedono alla vita psichica, possiamo attirare a noi le cose buone e allontanare le cattive. Questo potere universale non è limitato all'uomo, poiché è attivo nell'istinto degli animali e è giù nella scala ontologica anche nelle piante. Questo potere ad esempio permette alla bella donna di attingere l'atropina nel proprio ambiente naturale e al papavero sonnifero di attingervi l'oppio con cui fabbrichiamo la morfina. A certe alghe marine di assorbire bromo e iodio in grande quantità, sebbene tali elementi siano presenti nel mare in dosi infinitesimali. Tutto questo non è un adeguarsi della natura a se stessa? Commento. Noi possiamo attirare a noi le cose buone e allontanare le cattive, non per un adeguarsi della natura a se stessa, ma perché Dio è questo a attrarre progressivo. Dio non è solo la natura, ma la legge stessa del mondo.